Il mese di novembre è stato dichiarato mese di sensibilizzazione mondiale contro il tumore del polmone. Valce Onlus, donne contro il tumore al polmone in Europa, organizza diverse iniziative, tra cui la campagna di informazione dal titolo Questa non me la fumo, sulla prevenzione del fumo rivolta ai bambini delle classi quarte e quinte della scuola primaria. Novembre viene dichiarato a livello mondiale mese di sensibilizzazione per il tumore del polmone. Il tumore del polmone rimane la prima causa di morte per cancro nei soggetti di sesso maschile e femminile. Valce è un'associazione pazienti che si occupa dei pazienti affetti da questa patologia e di tutti i familiari, con una serie di programmi che sono scaricabili sul sito dell'associazione stessa. Fra questi programmi sicuramente quelli di prevenzione primaria sono quelli su cui puntiamo di più ed in particolare Questa non me la fumo da quest'anno è un programma di prevenzione primaria per le scuole elementari promosso anche dall'Istituto Superiore di Sanità. La campagna Questa non me la fumo è un kit, è una scatola gioco che può essere inserita nel programma formativo scolastico e in maniera del tutto gratuita va a supportare il lavoro delle insegnanti facendo un programma di non accesso alla prima sigaretta adatto ai bambini delle elementari e della prima media. Durante il mese di novembre Valce porta un programma di supporto in centri italiani, in particolar modo quest'anno insieme alle tappe di make-up dedicate alle donne che fanno chemia e radioterapia, c'è in Italia un programma di porta aperte in cui un esperto di tumore al polmone è a disposizione del pubblico e dei pazienti per rispondere alle domande.